salve a tutti amici sono mister del rick benvenuti nel mio canale e benvenuti in una nuova puntata di card hunter ragazzi riprendiamo esattamente da dove avevamo lasciato la volta precedente siamo nella seconda battaglia di tre forest wagon e per livelli 2 3 allora io ovviamente ho continuato a giocare adesso i miei personaggi sono di quarto di quinto livello quindi è un po sproporzionata la cosa però volevo farvi vedere un attimino come si come andavano avanti perché i nemici sono diversi i mazzi sono diversi per cui insomma li ho leggermente modificati comunque si trovano equipaggiamenti nuovi si trovano cose nuove per cui volevo farvelo vedere iniziamo subito il combattimento questo combattimento sarà un po particolare perché avremo a che fare solo contro anzi solo sto cazzo solo contro un solo nemico che è un qualcosa di enorme se colpisce in genere può con un colpo farti fuori perché è veramente forte allora in primo luogo andiamo a dare alla nostra maga la nuova carta che io ho messo per due turni praticamente mi rimarrà addosso aggiunge un più uno di danno a tutti gli incantesimi di elettricità sottraendo due dai block roll versus arcana attacco ok va bene d'accordo questo qua per il momento non ci interessa ma ce lo giochiamo immediatamente anche per il nostro guerriero c'è una carta che rimane per tre turni dove tutti i miei attacchi con penetrazione fanno un più uno di danno e li giochiamo allora ecco qua uno di penetrazione intanto abbiamo anche uno di penetrazione allora per il momento andiamo a colpire questo stronzetto con questi fulmini che faranno tre di danno per l'appunto perché è un danno in più questo si muove attenzione allora io potrei provare a giocare questo chop da parte del chierico nella speranza che non mi faccia troppo male ho otto danni ragazzi io dico solo questo ho fatto otto danni per cui noi adesso con questo ce ne andiamo aia la maga non avevo diciamo fatto caso anche a questa cosa anche la maga ridotta molto male questo si muove io però posso sopportare molto per cui vado con l'attacco penetrante gli faccio un più una danno quindi sono quattro danni non hai più carte attacco eh brutto stronzetto allora io ti picchio come se fosse come se non ci fosse un domani ok ti do anche quest'ultimo colpo che ho e adesso ce la svigniamo ok facciamo anche un passetto in più ok adesso possiamo passare il turno nuove carte avete visto che razza di danni fa questo stronzo puttana miseria allora questa è un'altra carta interessante che dura tre turni all'inizio di ogni turno scarto tutte le carte nemiche e handicap che sono stati attaccati agli alleati che sono adiacenti e gli curo anche di uno questa è una cosa simpatica però ci devo rimanere praticamente attaccato adesso ai miei ai miei si ai miei giocatori e gli altri miei alleati allora devo allontanare immediatamente il guerriero per la miseria adesso sono nella merda probabilmente il guerriero potrebbe no non ci lascia le penne però ci lascerà molto presto le penne ok hai sopportato bene questo colpo adesso lo uccidiamo perfetto e questa è vinta ragazzi ce l'abbiamo fatta in poco più di 4 minuti siamo all'ultima battaglia andiamo prima a vedere che cosa abbiamo trovato uno scudo che è lo stesso che ho già un'armatura che non ho mai avuto prima ma vabbè nulla di di trascendentale io preferisco quella che ho credo si è decisamente meglio ma sapete che forse neanche neanche è che è di quarto livello 4 4 3 si si no la preferisco la preferisco ok perfetto allora continuiamo e andiamo a fare l'ultimo combattimento anche questo non è proprio semplice bisogna muoversi con attenzione perché anche questo orco fa male però questa volta ha un alleato che è un curatore per cui attenzione dunque ci muoviamo fino a qua con il mago visto che può sparare ci muoviamo fino a qui io quello non lo riesco non lo raggiungerei neanche se lo volessi allora io per il momento con questo mi sposto accanto al guerriero ecco si lancia frenzy che praticamente è una sorta di furia completamente sprecato perché per questo turno non lo utilizzerà io con questo mi muovo avanti di uno e mi nascondo dietro questa colonna sapete che c'è che mi muovo avanti di uno con questo e con questo mi muovo lateralmente qua dietro che preferisco essere un po' più vicino e passiamo il turno allora devo buttare via e buttiamo via questa come carta devo rimanere appunto con due carte in mano allora abbiamo una carta healing che non avete mai visto questa cura 3 anziché 2 un healing normale che questo qua è un pulse quindi tutti quelli vicino a me entro un tot di raggio praticamente entro 3 quadri allora niente io penso che attenderò che si avvicini che si oh là hai fatto la cosa giusta bravo adesso prima di tutto ti becchi questa groppia da 6 danni chi picchiamo caspita io provo a continuare a dargli continuamente a questo allora diamo una botta a questo stronzetto mamma mia ok parato che culo quello erano botte da 10 danni ok allora niente con questo l'unica che posso fare è colpire proprio questo qua niente mi sono beccato una groppia da 5 danni andiamo a curare il guerriero di 3 ehi che razza di legnate mi sto mi sta andando puttana miseria fammi ti spostare va cazzo lo ha curato di 5 lo ha curato di 5 io uso questo per curarlo di 2 allora indietreggiamo leggermente io potrei fare una cosa anche di questo tipo oh no si è curato da solo allora faccio così e colpisco tutti e due facendo 3 danni me ne sono beccati 10 no 7 scusatemi vabbè per il momento ragazzi passo finisce il turno devo arretrare immediatamente con il guaritore perché altrimenti mi prendo di quelle botte da orbi va bene allora innanzitutto questo è ok indietreggiamo indietreggiamo fino a qua non ho attacchi cos'è questa cosa non stiamo scherzando allora devo indietreggiare ti porto fino a qui con questo spariamo al chierico che gli faccio 3 danni porca troia siamo nella merda siamo nella merda niente passo mi muore il chierico ragazzi purtroppo perché non avevo più movimenti passiamo ancora che cazzo succede oh ragazzi ma ma si può sapere cioè mi sta massacrando allora proviamo a passare ancora mi tengo quei movimenti lì allora io per il momento direi che ne scarto questo e scarto questo il movimento lo voglio tenere oh allora andiamoci dentro come se non ci fosse un domani adesso io mi muovo qui altri 3 danni ok maga mi arretra intanto di uno solo ok sta facendo il coglione fortunatamente altri 2 danni merda l'ha curato di 2 allora adesso però ti do fuoco nel vero senso della parola ti do fuoco e mi allontano mettendomi magari qua ok e passiamo il guerriero non è messo bene però dai che questo è quasi morto se si avvicina e lo attacco mamma mia se mi da lui adesso una botta sono fottuto allora è morto ha fatto la stronzata ed è morto questo è il fulmine ragazzi e guardate fa danno in tutte le caselle che attraversa mi interessa adesso colpire semplicemente lui e gli faccio 5 danni facili facili si gioca da solo un'intelligenza artificiale veramente fatta un po' con il culo devo dire si da un incantesimo addosso che ti ferisce di 2 però ti da frenzy e lui è morto va bene d'accordo ragazzi abbiamo abbiamo stravinto abbiamo assolutamente stravinto punti esperienza passaggio livello quinto livello per Thorin wow perfetto siamo Thorin ma ti si è sbloccata un'altra arma gne 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 allora adesso dobbiamo scegliere che cosa prendere dobbiamo scegliere che cosa prendere io prenderei comunque degli attacchi a distanza se fosse possibile perché sono una cicciata discreta e anche questi non sarebbero male perché ci sono diciamo così gli attacchi con penetrazione tutto sommato non mi dispiacciono ed è una buona soluzione allora questa è un'arma rara fa tutti attacchi a distanza 3 no scusatemi a distanza 2 però con danno 3 questo invece fa tantissimi danni 4 un danno 5 a distanza 2 e 2 stronzate di danno 2 ce l'ho già un'arma come questa qua ho qua questa ancia potrei allora potrei andare sulla variante per fare attacchi in corpo a corpo un po' più forti questo per esempio potrebbe essere un'ottima soluzione e io ti ci metto questo questa qua praticamente vedete ha delle carte che ti permettono di fare uno spostamento e un attacco con due danni questo è un'ottima cosa perché ti sposti anche oltre ad avere delle groppie da 6 danni per cui va bene perfetto direi che abbiamo finito apriamo la cesta non l'abbiamo neanche fatto nuova ehi la fermi tutti ma che cazzo di figata è mai questa ma che cazzo ma benissimo mi va benissimo questa ma che stiamo scherzando vabbè allora no aspetta attenzione attenzione ci sono delle groppie però di sesto livello qua questa delle groppie da sesto livello no no preferisco preferisco la clava questa è buona ma non altrettanto ok c'è un'altra botta qua ma non non è granché questi stivali questi stivali all'inizio prendo un punto di arcane damage ma perché questa cosa arcane feedback dovrebbe esserci vabbè non importa ah perché attacca va a distanza 4 fa un danno e a ogni turno praticamente prende un punto di danno magico simpatica questa cosa è veramente carina anche questo allora posso posso finire questo movimento adiacente a un blocco di terreno e c'è anche la corsa sono stivali particolari questi bisognerebbe effettivamente provarli bisognerebbe effettivamente provarli magari nella prossima partita faremo questa prova intanto prendiamo tutto quanto ragazzi finiamo e siamo di nuovo nella nostra mappa principale allora ragazzi io da voi ancora voglio comunque un commento su questo gioco fatemi sapere cosa ne pensate cosa ne pensate un attimino anche degli oggetti che abbiamo appena trovato se avete qualche suggerimento qualche carta a meno che voi ovviamente non ci stiate già giocando io quanto prima cercherò di registrare anche delle partite in cooperativa con indie gameplay con Mujedin insomma con con il Tura adesso vedremo un attimino ci stiamo organizzando nel frattempo voi mettete un bel mi piace se vi va condividete commentate ragazzi e noi come sempre ci vediamo al prossimo video state in campana alla prossima ciao